Presidente, allora si riparte e si riparte dall'entusiasmo di una città, di una provincia, di Lecce, dei leccesi e dal record di abbonamenti sottoscritti, più di 21.000. Sì, è così, è un bellissimo segnale di tutto l'ambiente, di tutto il territorio che ha deciso di esserci accanto. Ormai da un po' di anni a questa parte ha capito il senso del nostro progetto, il nostro modo di fare calcio e cerca di essere con noi. Stasera ancora una volta registriamo il tutto esaurito, un bel segnale da parte della nostra gente che è sempre presente allo stadio. Che bello stadio, Presidente, stadio che si rifà il look a certificare ancora di più la solidità del progetto, Lecce. Sì, ci abbiamo lavorato tanto e grazie in occasione dei giochi del Mediterraneo ci sarà questa opportunità di un profondo restyling dello stadio con la copertura. È un passo che volevamo fare a tutti i costi, che meritavamo di fare, meritavano i tifosi di avere una casa ancora più adeguata. E parallelamente abbiamo acquisito l'aria per realizzare il nostro centro sportivo. Cerchiamo di strutturarci sempre di più e cercando di essere all'altezza di una piazza così importante. Tra poco si gioca e si gioca con il mercato ancora aperto, con le trattative ancora in corso. Lecce ha fatto diverse cose, c'è da aspettarsi ancora qualcosa prima della fine delle trattative? Noi stiamo cercando di puntellare un organico che già dall'inizio del mercato a oggi ha visto sette nuovi ingressi, sette operazioni di mercato fatte con criterie dalla nostra ottima area tecnica. Probabilmente non è finito il lavoro da fare in questa sezione di mercato. Riteniamo che ci saranno le opportunità di fare qualche altro intervento fino alla fine del mercato.